Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Continuiamo il nostro studio di Luigi Pirandello e questa volta leggiamo e analizziamo insieme Uno, Nessuno e Centomila. Prima però iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace di supporto e seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Diario di Charlotte. Vi ricordo che abbiamo una playlist per la maturità che vi lascio qui e che stiamo affrontando in questo momento Pirandello, quindi seguite tutti i miei video. Dopo aver letto e analizzato il Fumatia Pascal, dobbiamo parlare di Uno, Nessuno e Centomila. Pirandello inizia a scriverlo nel 1910, ma lo completa nel 1926, quindi pensate che parto, e lo pubblica sulla fiera letteraria. Sappiate che i romanzi in generale venivano pubblicati a puntate sulle riviste. Questo è un romanzo testamento di Pirandello. Una sezione inoltre del romanzo appare già nel 1915 sulla rivista romana Sapienza. Sulla rivista però questo romanzo era intitolato Considerazione di Vitangelo Moscarda, generale sulla vita degli uomini e particolari sulla propria, in otto libri. Quindi abbiamo già qualche informazione, no? Il personaggio principale sarà Vitangelo Moscarda e il testo sarà diviso in otto libri. Abbiamo quindi anche una prefazione di Stefano Landi, il figlio di Pirandello, che dice Quindi qui abbiamo già un rimando, no? A tutto ciò che prova Pirandello, rispetto anche a questi, romanzi che lui scrive, no? Cioè lui vede la perdita della stima di chi ama, no? La madre, quindi, che diventa pazza. E dunque lui si sente uno spirito senza volto, come Vitangelo Moscarda. Antonietta Portulano, la moglie di Pirandello, è affetta da delirio paranoide, ai tempi veniva tacciato come nevrosisterica, come isteria, perché tutto era isteria. Fatto sta che viene internata in una clinica psichiatrica e non guarisce, perché, ci dice Pirandello, è affetta da una forma irreversibile, irrimediabile di pazzia. La struttura, come vi dicevo, il romanzo è diviso in otto libri e sessantatré capitoli titolati. Si apre però con due capitoli intitolati, mia moglie e il mio naso e il vostro naso. Vi ricordate che in Mattia Pascal ha l'occhio che va un po' dove gli pare, e invece qui c'è un problema di naso. Anche qui prende sempre ispirazione da Lawrence Stern, di cui abbiamo già parlato, per il fu Mattia Pascal. Infatti, sempre nel Tristram Shandy c'è la dottrina dei nasi. Il protagonista di questo romanzo è nato quasi senza naso, a causa delle pinze del dottor Zlop. E nel romanzo è presente anche una dissertazione proprio sui nasi. Comunque, Vitangelo Moscarda è il protagonista di questa storia. Vitangelo Moscarda. Vitangelo di fatto significa angelo della vita, che vola al di là della mediocrità. Mentre Mosca, beh, la Mosca che cos'è, no? Non è la moglie di Eugenio Montale, ma è un insetto dalla vita breve. Nel libro primo troviamo un ventottenne, Vitangelo Moscarda, che si guarda allo specchio. E a un certo punto la moglie gli dice Guardatelo bene questo naso, eh? Ti pende verso destra. Vitangelo, scioccato! Ma come mi pende verso destra al naso? Ma chi l'ha mai visto? Ma chi se n'è mai accorto? Ma che stai dicendo? E allora la moglie gli elenca tutta un'altra serie di difetti, no? Le sue sopracciglia, che sembrano due accenti circonflessi un po' come nei manga. E quindi Vitangelo, scioccato, dà una frasetta detta così senza pensare che smentisce l'immagine che lui coltiva di sé da anni. E il vostro naso? Vitangelo si guarda e gli sembra di vedere un estraneo, no? Cioè lui credeva di essere uno, un individuo unico. E si accorge invece di essere centomila. Quindi centomila rispetto a tutto quello che gli altri pensano di lui, no? Quindi ha delle identità opposte che sono gli altri che gli attribuiscono. Ma lui non sapeva neanche di averle. Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che alla fin fine era ovvio e comune il mio caso. Il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo. Cioè che notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a mettere radice nel mio spirito. E non potrei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero che io non ero per gli altri. Quel che finora dentro di me me ero figurato di essere. E qui diciamo che abbiamo il primo dubbio esistenziale di Vitangelo che porterà poi a una climax molto preoccupante. A un certo punto Vitangelo quindi vuole essere solo. Vuole essere solo ma non come le persone normali che chiudono la porta, vanno in camera, si mettono le ciabatte e bevono un caffè da soli. No. Lui vuole essere solo in un modo insolito. Vuole liberarsi da tutte quelle maschere e quindi liberarsi da tutte quelle sovrastrutture che ha addosso e guardarsi allo specchio come un estraneo. Se per gli altri non ero quel che finora avevo creduto d'essere per me, chi ero io? Chi siamo noi? Bella domanda. Vitangelo quindi vorrebbe vedersi vivere come se fosse un estraneo. Però guardandosi allo specchio capisce che non si vede come lo vedrebbe un estraneo. Perché fa delle faccette, no? Come noi quando ci facciamo un autoscatto. Ci guardiamo in un certo modo, no? Quindi di fatto stiamo ancora indossando delle maschere. Forse, spoiler, non indossiamo più una maschera. Per esempio quando ci cade, per dire, è un piatto sul piede e ci fa un male cane. In quel momento noi siamo liberi. Quindi quando la moglie Dida va da Anna Rosa, un'amica lui dice Sono solo. Finalmente posso guardarmi allo specchio. Poi impazzi. Parla. Mostrami il tuo volto. Che vuoi conoscere, mia regina? Chi era? Ero io. Ma potevo anche essere un altro? Eh. E allora inizia tutta una serie di riflessioni. Perché lui non è quello che credeva di essere per gli altri. Non può vedersi vivere. Non può vedersi vivere quindi è sempre strano a se stesso. Il suo corpo, se lo vede da fuori, è un'apparizione di sogno. Questo corpo non capisce bene se è suo, se non è suo, come lo vede l'altro. E poi è qualcosa, è qualcuno, è nessuno. Ma nel libro secondo capiamo che cosa fa Vitangelo nella vita. Lui vive grazie alle rendite del padre, usuraio, che sono gestite da due sottoposti, Firbo e Quantorzo. Però lui ha sempre pensato che il padre fosse una gran persona. Non poi capirà che è anche un usuraio. E quindi anche questo sarà un ulteriore shock. Si domanda infatti che idea abbiano di lui e del suo lavoro. Prima nel commento infatti di sua moglie, lui credeva di essere uno. E invece adesso si rende conto di essere centomila. Ha tante identità. È un po' confuso. E una delle sue identità è Genge. Infatti Genge è il modo in cui lo chiama la moglie. Ange, Genge è un'iterazione infantile, no? Da cui nasce proprio il soprannome di Vitangelo. E quel soprannome che lui odia è una maschera buffa che copre invece l'aulico Vitangelo, no? Dida infatti dice di conoscerlo bene. E Genge lo sa bene che lo conosce bene. Se l'è costruito lei. Nel libro terzo, Moscarda inizia a fare delle pazzie per forza. Vuole dimostrarsi il contrario di quello che supponeva di essere. Per esempio. Io a scuola non faccio mai compiti. Bene, da domani inizio a fare sempre i compiti. E così smentisco l'idea che di me hanno gli altri. Intanto non tollera il suo cognome. Moscarda. Non gli piace il suo aspetto, ma deve rassegnarsi. Però può cambiare l'idea che gli altri hanno di lui. Quello sì. Vuole distruggere le centinaia di identità che gli hanno attribuito familiari e amici. M'ero creduto finora un uomo nella vita. Un uomo unico. Invece no. Anche l'immagine che ha sempre avuto della sua famiglia e di suo padre è distorta. Cioè, vedi, io per la prima volta, mio padre come non lo avevo mai visto. Quindi lui di fatto è figlio dell'usuraio. Probabilmente per questo il paese lo odia. Però suo padre almeno lavorava. Lui manco quello vive di rendita. Volevo chiedervi se potevo giocare con voi. No! Nel libro quarto, dopo che ha realizzato di essere il figlio di un usuraio, dice che vuole fare un atto che non doveva essere suo. Ma di quell'ombra di sé che vive in realtà in un altro. Quindi, idea geniale di Moscarda. Marco Didio e sua moglie, che vengono definiti nel testo proprio dei poveracci, sono degli affittuari di Vitangelo. E lui dice, li sfratto dalla loro catapecchia. Ma perché? Per poi sovvertire tutto. Vitangelo, infatti, lo impone anche ai suoi sottoposti. Acquantorzo e firmo. E dice, il padrone sono io, eh, comando io. In questo modo, quindi, conferma la fama dell'usuraio spietato. Ma poi regala ai due un appartamento. Va da un notaio, fa l'atto e quando vengono sfrattati, dice, no, scusate, viene regalato un appartamento a questi due. E tutti dicono, pazzo, pazzo, pazzo! Aveva voluto dimostrare che lui poteva, anche per gli altri, non essere quello che lo si credeva. Nel libro quinto, Moscarda diventa un contestatore del mondo borghese. Fa finta di essere gengè, ma ormai non è più gengè. Prende addirittura a calci la sua cagnolina a bibì. A casa, poi trova la moglie, che, cioè, giustamente, questa povera dida, dice, ma che... è il pazzito, ho il mio marito, che devo fare? E quindi chiama i sottoposti, dice, loro, mandatemi una mano, secondo me è un po' pazzerello. Al che, il pitanzo lo entra e dice, eccoci qua! Eccoci qua chi? Lui e le sue centomila personalità. Moscarda, poi, ordinerà anche a Quantorzo di chiudere la banca. E Quantorzo dice, ma cosa stai dicendo? E se ne va sbattendo la porta. Nel libro sesto, dida che non ne può più del marito un po' burlone, se ne va di casa. Si rende conto, ormai, anche Vitangelo, di aver rovinato il rapporto con la moglie, a cui vuole bene. Però lui non è più usuraio, non è più gengè. Quindi parla col suocero e dice, beh, dopo la banca potrei laurearmi. Il suocero capisce che ormai è fuori per fuori. E quindi lo congela, no? Vitangelo si immagina avvocato, medico, professore. Però non vuole imbrigliarsi in una forma, quindi forse è meglio star lì dove è. Nel libro settimo, torna Anna Rosa, no? Che vi avevo già menzionato perché è un'amica della moglie di Vitangelo. E Anna Rosa invita Vitangelo in un monastero. Mentre sale le scale, succede qualcosa di strano. La donna ha in borsetta, nella borsetta, una rivoltella che cade e che la ferisce al piene. Quindi lei viene ricoverata per essere medicata. Moscarda si accorge di essere interessato ad Anna Rosa. Forse addirittura gli era sempre piaciuta, ma non se n'era accorto. E apprende proprio da Anna Rosa che i parenti vogliono farlo interdire. Allora ottiene l'appoggio di Monsignor Partanna in cambio di una donazione ai più deboli. Sarebbe stato il prete Antonio Sclepis ad occuparsi della faccenda. Però Vitangelo ne combinerà ancora un'altra. Tanto notiamo l'elemento dello specchio, dove noi ci riflettiamo. Molto presente nei romanzi di Pirandello e anche in questo romanzo. Prima si guarda al naso, adesso guarda Anna Rosa, si guarda e hanno una conversazione. E lui le dice, non si può vivere davanti a uno specchio. Procuri di non vedersi mai. Ma è importante questa riflessione, perché noi davanti allo specchio in realtà siamo noi stessi? O siamo come vorremmo farci vedere agli altri? Secondo me è più la seconda in realtà. Nel libro ottavo anche Anna Rosa si accorge che Moscarda è un po' abbattito. E con un gesto inaspettato decide di ucciderlo. Al processo Anna Rosa confessa di essere stata aggredita. Quindi non l'ha ucciso, alla fine non è riuscita ad uccidere Vitangelo. E Moscarda però si presenta come un pazzo. Con un berretto, gli zoccoli, un camice turchino. E parta di incidente. In realtà lei però confessa, perché non è stato un incidente. E lei in un momento di impeto voleva liberarsi di quest'uomo. Nessun nome quindi, nessun ricordo. Oggi del nome di ieri, del nome d'oggi, domani. Quindi Moscarda ha ucciso finalmente Vitangelo Moscarda. Però si rende conto che la vita non conclude. La vita non sa di nomi. Quindi si rifugia in un ospizio di mendicità, costruito con le sue donazioni, immerso in un luogo a meno. E qui riesce a diventare un tutt'uno con tutto ciò che lo circonda. Si libera da tutte quelle maschere. Può essere albero, nuvola, vento, libro, rinascere, attimo per attimo. Muoio ogni attimo io. E rinasco nuovo e senza ricordi. Vivo intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori di me. Quindi trova una nuova pace. Per Mattia Pascal questa nuova pace era stata la scrittura. Per Serafino Gubbio la reificazione. Per Memmo Viola il riso sono tutti personaggi, non di novelle pirandelliane, dei romanzi. E invece per Vitangelo c'è la panificazione, il panismo. Nel luglio del 22, Pirandello dirà Spero che uno nessuno centomila possa uscire prima della fine dell'anno. È il romanzo della scomposizione della personalità. Lui vuole, no, Pirandello, un po' eliminare il lato negativo. Dice, appaio come un diavolo distruttore che toglie la terra di sotto i piedi della gente. E invece, non consiglio forse dove i piedi si debbano posare quando di sotto i piedi tiro via la terra. Questo di fatto è un testamento letterario, no? Dopo il quale Pirandello avrebbe dovuto, no? Si era detto che non avrebbe più scritto. Infatti capisce che la realtà, no? Lo dice proprio in un'intervista del 24, non esiste. Siamo noi che creiamo la realtà minuto per minuto. Quindi la realtà è soggettiva. I temi di questo romanzo sono la disgregazione dell'io sfaccettato, la maschera e la follia, quindi le forme che noi dobbiamo indossare e di cui abbiamo parlato nel video sulla vita e il pensiero di Pirandello che vi lascio qui, l'umorismo e anche la critica verso le regole sociali che emerge anche nel fumattia Pascal. Infine qui abbiamo il panismo, no? Il tema del panismo che fa parte sempre di tutti quegli elementi che emergono nella cultura decadente. Questo romanzo è un monologo interiore ed è anche interlocutorio, inarrestabile, no? Non è solo un monologo, però c'è molto monologo da parte del narratore che ammicca il lettore e lo rende partecipe nel vedere questa messa in scena, no? Anche i titoli dei capitoli sono interlocutori, si rivolgono e il tuo naso, il vostro naso, per esempio, fanno delle domande che vanno a rompere le convenzioni. Dal punto di vista della scrittura, lo stile è spezzato, ci sono domande retoriche ed esclamazioni, ci sono più di 500 punti interrogativi in questo romanzo. Quindi la lingua è anche informale, ha molti tratti del parlato. E quindi, niente, spero che abbiate delle domande da farmi, visto che rimaniamo in tema di punti interrogativi, e vi lascio alla prossima video-lezione. Grazie a tutti i nostri spettatori,